Ciao a tutti e benvenuti a questa sessione su Azure AI e Onex Runtime. Io sono Mauro Benici e prima di introdurvi alle novità che sono arrivate in Azure dalla parte del Machine Learning, e ovviamente a ringraziare gli sponsor che ci hanno permesso di essere qui. Che cosa mi occupo di Bello? Allora, dal 2006 mi occupo di intelligenza artificiale e ho depositato il primo brevetto nel 2016. Ovviamente oggi tutti parliamo di intelligenza artificiale, potete immaginare che nel 2006 ne parlasse quasi nessuno. E di sicuro anche il cloud era molto diverto da quello che conosciamo oggi. Io ho iniziato così, ho iniziato con un computer che era stato progettato per parlare soltanto con un computer come lui. Perché vi dico questo? Perché anche nella data science, fino a un decennio fa, le cose andavano più o meno nello stesso modo. Quindi come venivano elaborati i nostri dati, da quale programma, da quale struttura, da quale processore, era una cosa che restava limitata a quel computer, a quella sala dati e a quel processore, il più delle volte. Oggi diremmo che resta relegata al framework, oppure al cloud. Quindi niente di strano che il lavoro del data science era un lavoro quasi da solista o da piccolo laboratorio. Quindi eravamo nel nostro ufficio, ci venivano consegnati gli hard disk dentro i dati e avevamo vari tool per poter mettere a frutto le nostre competenze. Le elaborazioni in tutto il locale richiedevano giorni ed era probabilissimo che ogni singolo progetto avesse del proprio software custom generato unicamente per un singolo obiettivo, ma talmente customizzato che tra anche due dipartimenti diversi si usassero completamente librerie diverse anche framework diversi, anche alle volte piattaforme diverse. Arriva il cloud, la prima versione del nostro cloud era cosa facevamo? Prendevamo fondamentalmente le macchine che avevamo nei nostri data center e li spostavamo come macchine virtuali. Macchine virtuali ovunque che poi pian piano sono diventati servizi, ma fondamentalmente non risolvevamo questo tipo di problemi. chi aveva determinate macchine ha continuato a spostarle, chi ne aveva altre le ha spostate e di nuovo le competenze, soprattutto quelle informatiche, non venivano condivise. Nella seconda era arrivano i servizi dedicati sul cloud, come il primo Azure Machine Learning, ma ce ne sono stati tanti rebranding con il nome, dove si cominciano a portare effettivamente dei servizi e questi servizi cominciano effettivamente a parlare più la lingua matematica, un po' meno quella informatica di tempo. Ma qui nasce un problema di specializzazione delle aziende. Cosa succedeva? Anche in volendo sviluppare un prodotto su Azure. E se il cliente era su Azure, facilissimo. Se il cliente non voleva andare sul cloud, non poteva andare sul cloud, nascevano altre problematiche che oggi con i cloud nazionali, con tutti gli accordi, pian piano stiamo risolvendo, ma ne nasce un altro. Nasce il grosso problema del dire io sono un cliente, ma tutta la mia infrastruttura gira su AWS. Voi siete specializzati nel fare servizi su Azure, io non voglio introdurre un ulteriore cloud. Ed era un problema, perché di nuovo bisognava postarsi per prendere il cliente su un'altra piattaforma e non si potevano condividere tantissimo del know-how che si aveva sulla specializzazione del cloud. In alcuni cloud, questo che succede per esempio su Google, se vogliamo utilizzare le TPU, quindi le Tensor Processor Unit, quindi quel tipo di processore nato esclusivamente per far girare l'attività di machine learning del framework TensorFlow, addirittura c'era un hardware lock-in che poteva subentrare quando noi magari abbiamo preso un nuovo appalto col cliente e il cliente dice no, ma io tutto sta girando su Google Cloud e sto utilizzando le TPU. Ok, noi stiamo lavorando su Azure, ci dobbiamo bere su Azure, dobbiamo fare tutto su Azure, dobbiamo riscrivere tutto. Anche i framework che sono arrivati negli ultimi dieci anni cambiano rapidamente, ve ne potrei dire alcuni che non esistono neanche più, e tanti altri, quello magari più famoso avrete sentito PyTorch e TensorFlow, all'inizio facevano cose proprio diverse matematicamente che pian piano in realtà si sono copiati e adesso fanno più o meno le stesse cose, per esempio anche Keras adesso fa parte del TensorFlow 2, ma anche lì dice ok, posso andare sul servizio, lo posso utilizzare, ma mi ritrovo di nuovo nelle condizioni di dire lo devo riscrivere. Ora, se questo lo devo riscrivere era non bello, ma comunque possibile da dirsi o da farsi, qualche anno fa è impossibile se oggi pensiamo a modelli di LLM alla GPT o alla Gemini per intenderci, che sono modelli in cui il training costa tanto. Fate conto che nella prima versione GPT 3,5 si dice che il primo training si è costato più di 30 milioni di dollari tra hardware e tempo di elaborazione. Quindi anche lì dice no, qualcosa non sta più funzionando, qualcosa non funziona perché ci leghiamo a una piattaforma cloud oppure dobbiamo abbandonare a quella che a noi piace tanto e dall'altro dice ok, questa nuova azienda ha rilasciato questo modello ma lo ha fatto scrivendo un determinato framework e noi ne abbiamo un altro quindi o dobbiamo riscrivere o dobbiamo cambiare la nostra architettura. qualcosa non va. Allora qualcuno si è chiesto dicendo sì ma se noi dobbiamo portare dentro una rete neurale adesso poi vedremo in Azure AI come fare la nostra rete neurale ma se io questa rete neurale la voglio esportare o la voglio importare andiamo alle basi di che cosa è veramente una rete neurale. Una rete neurale non è altro che un software che va a prendere determinato input gli viene spiegato come lo deve spezzettare lo deve buttare nel layer degli imbutini gialli del layer di input ogni uno di questi layer di input applicherà delle funzioni matematiche deciderà quale delle nostre palline o quanto peso le nostre palline andrà avanti dentro i layer fino ad arrivare al layer di output e il layer di output lo farà cadere all'interno uno dei nostri basket i basket sono scritti in Klingon una lingua che tutti noi al lavoro normalmente utilizziamo ma proprio per rendere l'idea del fatto che la rete neurale non ha la più pallida idea di che cosa sia un gatto o di cosa sia un cane allo stesso modo dice ognuno di quegli imbuti non ha più pallida idea di quello che gli sta arrivando gli stanno arrivando dei numeri dentro una matrice e lui sta applicando una formula matematica quindi perché non prendere esattamente lo stato di questi imbutini e cominciare a poterne creare magari dei convertitori quindi io voglio fare in modo che indipendentemente da quale linguaggio sia stato scritto e da quale framework mi abbia creato quel modello di poterlo tirare via in qualcosa che possa convertire in un altro tipo e quindi di modelli ne sono nati tantissimi partendo dalla cosa più stupida quindi la mia struttura il peso il livello il tipo all'inizio questi convertitori non facevano altro che prendere un modello tensorflow e farlo diventare un modello PyTorch e viceversa ma qualcuno si è anche fatto un'altra domanda ma perché devo portarmi dietro tutto il modello dove ha anche tutte le informazioni in cui ho studiato i miei dati non soltanto esattamente proprio il valore degli imbutini che utilizzerei quando faccio inferenza ovvero quando do un input e mi aspetto un altro così nasce Onix Onix è un formato agnostico che prende proprio spunto da questo noi come sviluppatori possiamo quasi dire che sia l'XML o magari il JSON delle linee dei sistemi neurali ed è più o meno non ci andremo molto lontano quindi che cosa succede? chiediamo di esportare il modello in Onix gli diciamo quale è l'offset quindi quali sono le funzioni matematiche che sono supportate che è una cosa fondamentale da fare quando facciamo lo studio ovvero parlare con il nostro data scientist o l'azienda che ci sta facendo il modello per dire guarda qua c'è la lista di quello che viene supportato magari prima di finire tutto il modello e spendere 30 milioni facciamo un piccolo test vediamo se riusciamo a salvarlo se ci sono degli errori vediamo perché e da questo piccolo idea ne nascono tante altre e una di queste altre è ma perché non posso fare analizzare la mia rete quindi a un modello al posto di vedere io la matrice creo dei software che mi vanno a vedere se è efficiente o non è efficiente magari lo posso ottimizzare o perché non farne dei visualizzatori qualcosa che al posto di avere questo xml questo json di cui non capisco assolutamente nulla mi possa graficamente far vedere cosa sto guardando fino ad arrivare ai motori di inferenza agnostici quindi non devo più dire ah no io sto utilizzando tensorflow e voglio utilizzare le inferenze di Azure ah posso farlo solo fino a questa versione perché l'ultima non è supportata oppure ho scritto tutto per usare tensorflow e Pythor ce non lo supporto ok ma se lo riesco a trasformare in onex perché non farlo girare di tanto in onex visto che si tratta semplicemente di prendere quegli imbutini e fargli fare delle funzioni matematiche quindi con onex ci dice utilizzate il framework che volete potete ridurre di tanto anche la documentazione vedremo poi nella demo ma io non devo più sapere come è fatto un livello di input o di output per sapere come se fosse quasi la dichiarazione di swagger com'è che devo passarvi l'input per prendere l'output ma lo posso direttamente vedere dal mio onex e ovviamente posso riutilizzare tutti i modelli che posso convertire in onex quindi quando leggiamo ah è stato rilasciato il nuovo modello per creare dei video non c'è problema se sono su Agimface Agimface non è il modello onex lo trovate standard perché fa parte anche del loro optimizer ma tanti altri modelli dice ok lo scarico e gli chiedo come di averlo in onex così lo hanno scritto in un terminato framework gira su python ma io lo metto tranquillamente lo reimporto dentro azure e lo espongo attraverso le pipeline di azure o lo importo dentro il mio dentro il mio applicativo e in c sharp e lo metto in run e in c sharp in questo modo posso anche volendo farlo girare sulla on premise o farlo girare dove voglio e quindi è lì che arriva appunto microsoft microsoft inventa l'onex runtime è assolutamente open source lo trovate su btab e dice ok adesso c'ho il mio formato onex mi serve perché su azure mi è molto più comodo da avere una sola pipeline dove posso far girare tutto cosa facciamo comincio a dare le interfacce a chi sviluppa gli applicativi e chi sviluppa gli altri framework con l'altro hardware quindi pian piano qualche anno fa esistevano due o tre piattaforme supportate queste sono tutte quelle supportate fino a ieri e cosa posso fare comincio a dirgli io ho un modello questo modello l'ho esportato adesso devo mettere il run mettendo che voglio usare maui deve girare su android ok voglio utilizzare c sharp sì l'architettura è un arm sì posso utilizzare la default cpu o posso utilizzare la rete neurale dei dispositivi android andrò a selezionare il framework installerò il package newget per altre piattaforme magari vi avrà chiesto di installare direttamente anche altro ma una volta fatto questo io in c sharp vi parlerò esattamente come se fosse quasi un web service o una chiamata rest adesso è più facile andarlo a vedere che che girarci intorno e qui siamo al nostro bel Azure services quindi noi andiamo su Azure andiamo su Azure machine learning possiamo crearne uno nuovo io per comodità e per tempi ne ho già creato uno ma in realtà non ha nessuna complicazione particolare viene semplicemente creato e poi ti dice per usarlo veramente tolto tutte le opzioni di configurazione possibili dobbiamo lanciare l'Azure machine learning studio lanciamo l'Azure machine learning studio ed è tutta questa bella parte qui che cosa c'ha? abbiamo tutti i sistemi ovviamente di OpenAI ci sono tantissimi sistemi integrati tantissimi modelli con cui possiamo già fare addestramento fare di tanti servizi ma noi immaginiamo che no noi abbiamo preso dal nostro cliente un modello che lui già aveva magari sull'altra piattaforma vogliamo darlo al mio data scientist e vogliamo continuare ad utilizzarlo quindi cosa farà un data scientist? creerà innanzitutto da vedere qual è il dato che gli è stato fornito in questo caso l'ho caricato ma come data possiamo mettergliene tanti altri possiamo andare qui possiamo vedere i file possiamo avere le tabule possiamo attaccare i database possiamo fare veramente qualunque cosa per comodità diciamo ok ho un file un file veramente complicatissimo è un csv che all'interno ha cinque colonne qual è la specie di fiore che stiamo da cui sono stati presi questi valori è i quattro valori per istruire il nostro modello cosa fa il bravo data scientist file to load ok riproviamoci questo ce l'abbiamo questo non ce l'abbiamo ancora allora parliamo andiamo avanti vediamo se si riprende andiamo a fare un'altra cosa quindi ovviamente per poter partire per poter analizzare per poter studiare il nostro modello di cos'è che abbiamo bisogno abbiamo ovviamente bisogno di potenze computazionale possiamo attaccare dei computer magari sono inside virtual machine o altri workspace possiamo andare a serverless abbiamo kubernetes abbiamo computazioni in questo caso ho creato una semplicissima macchina quindi un e4 niente di più 4 core 32 giga cioè in realtà è un carro armato per il nostro file però questo ci dà l'idea del tipo ok io sono su azure ho studiato azure sto usando magari un modello di open ai o un altro modello di microsoft voglio poter continuare a far tutto qui vediamo vediamo se appena va su distanza se gli piace di più e comincio a fare il mio bel lavoro che cosa fa il mio bel lavoro microsoft almeno in questo se non andate a cambiare quale che siano le impostazioni dopo un po' che non lo utilizzate la spegne la spegne da solo o per farci risparmiare qualche soldo se l'abbiamo lasciata andare perché qui potete creare fino a le macchine con il maggior processore nvidia a disposizione e quindi che cos'è che faremo? andremo ad analizzare questo questo file e una volta analizzato questo file che cos'è che vogliamo fare? vogliamo semplicemente poter creare la nostra applicazione in C Sharp in cui fornendo queste quattro informazioni di risposta avremo la catalogazione secondo il sistema un classico modello di classificazione che sta partendo in cui dire ok cosa avremmo dovuto fare normalmente? noi normalmente avremmo dovuto prendere questo algoritmo questo algoritmo è stato scritto in PyTorch dobbiamo riavviare vediamo se è più contento a portare su a fare un refresh che funziona sempre adesso sembra di sì avremmo dovuto prendere cosa? PyTorch prendere un pezzettino di PyTorch del modello riscrivere il nostro web service in Python metterci magari davanti un proxy con qualche cosa magari poterlo utilizzare con il nostro C Sharp oppure l'avremmo dovuto esporre attraverso gli end point Microsoft ma controllando che sia supportata esattamente la versione di PyTorch che noi vogliamo utilizzare ovviamente come dicevo questo consuma risorse sia perché Python in virgolette consuma di più di C Sharp e comunque consuma anche tutta una serie di problematiche di architettura magari la nostra azienda non conosce Python o non sa come far reggere bene il carico quando arriverà un grosso una una grossa richiesta sul nostro server o non sa come funzionano tutte le varie problematiche quindi ok voi utilizzate quello che volete è andato giù ok finalmente ce l'abbiamo quindi abbiamo il nostro bel notebook ovviamente scritto questo in Python e PyTorch adesso sono supportati e ovviamente è supportato anche il linguaggio R e che cosa facciamo andiamo a installare quelli che sono i nostri framework andiamo a fare questa ovviamente tutta roba che fa la parte del data scientist e va ad aprirsi il suo bel csv e si va a studiare come è fatto allora ho 5 colonne ho 150 righe mi dai un po' delle informazioni ah guarda devono essere di questo tipo sono dei float questo una stringa mi descrivi più o meno come è fatto quindi mi dai il percentile devo controllare che ci sia qualcosa null o non null quindi tutto il lavoro che il nostro bel data scientist fa si importa il bel PyTorch si fa tutte le sue lucubrazioni e poi dice sì ma io alla fin fine comunque mi ritrovo questa roba qua ho dei valori ricordiamo ho delle matrici ok che cosa faccio allora prendo questi valori li splitto quindi ne metto un 80% per essere studiato un 20% per controllare che ci abbia preso eccomi li trasformo in tensori quindi nella matrice che è in grado di capire il mio il mio framework e creo uno stupidissimo modello quindi creo gli imbutini ricreo il modello gli dico in che modo gli imbutini devono decidere cosa passa e non passa alla fine e gli dico di cominciare lo studio cosa fa lo studio lui crea gli imbutini a caso e pian piano che dice ah guarda sono arrivato questo era un gatto e dice no era un cane allora cosa faccio cambio il valore degli imbutini per fare in modo che la prossima volta si avvicini di più al valore corretto è abbastanza facile io ho chiesto di fare 100 tentative vediamo che il loss quindi quanto è la differenza tra quanto ci ha preso e quanto ha sbagliato pian piano si riduce si riduce si riduce si è ridotto talmente tanto che alla fine quando è accurato è addirittura al 100% dice ok adesso che ho finito però cosa devo fare salvo il modello va bene ho salvato il mio modello l'ho salvato il mio modello in PyTorch è in grado di rileggerlo tutto bello stessa problematica non posso ficcarlo dentro Android non posso magari metterlo dentro la pipeline di Azure perché magari non supporta ancora questa versione del framework oppure è una versione talmente vecchia che è stata rimosso quindi ok cosa faccio allora importo l'onex per PyTor fa parte del framework per TensorFlow va scaricato a parte ma è esattamente la stessa roba mi creo qual è l'input quindi dico ah guarda ti darò un valore solo alla volta mi devi fare il grado va bene però sono 4 colonne alla fine erano 5 uno non mi serve perché sei tu che me lo devi dire dammi dei gradienti a caso ok guarda che bello fatto in questo modo ah ok sono sicuro che funzioni lo ripasso al mio modello il modello dice sì guarda se tu mi dici questa roba qui io ti rispondo che secondo me è a valore 3 quindi il piatto di tutti che sia in categoria 1 questo è un po' meno che sia in categoria 2 in categoria 3 quindi esattamente le label che abbiamo visto dal csd e scrivo questa bella roba qua del tonex export lasciando stare tutte le problematiche che adesso non ci può riuscire perché ce l'ha già mi crea questo robino qua quindi il nostro bellonex che da vedere così diciamo che non è proprio comodo cioè sarà anche universale ma non è proprio comodo per ovviare a questa problematica come abbiamo detto sono nati i visualizzatori esattamente il nostro modello equivale a questo è totalmente agnostico onyx quindi ah che bello finalmente non devo neanche starmi lì a fare tutte le documentazioni per andare a dire come l'ho fatto sono un onyx versione 5 il produttore era stato il python c2.3 sto supportando la versione 10 delle mie delle mie onyx l'input si chiama input sempre con molta fantasia ed è un float che si aspetta un valore tra quattro elementi e l'output si aspetta un valore da tre elementi ok quindi io finalmente ho staccato da tutto e ho una versione onyx microsoft crede talmente tanto in onyx che se usate altri dispositivi come anche nel data studio anche nel data studio adesso nativamente trovate la possibilità di fare l'export direttamente in onyx quindi poter dire faccio tutto su azure perché so usare azure ma il mio cliente lo vuole utilizzare da un'altra parte ah non c'è problema io studio tutto persino con i servizi integrati di azure poi premo il bottone export a in onyx e posso dare al mio cliente direttamente il modello lui potrà reimportarlo in pytorch se vorrà oppure utilizzarlo direttamente per utilizzarlo direttamente questo è un altro modello fatto con tensorflow che è decisamente molto più complesso di quello che abbiamo fatto noi ma di cui non cambia assolutamente niente sempre un elemento input da 4 questo l'output è stato chiamato in questo modo da 3 ma a noi che dobbiamo utilizzarlo non cambia assolutamente nulla ha versioni diverse del machine ha versioni diverse degli offset quindi della matematica che deve poter supportare per avere queste diverse funzioni ma il resto è identico cosa accade a noi ovunque si voglia con qualunque linguaggio l'abbiamo visto cosa faccio installo le librie dell'onex runtime come mi è stato detto dico di andarmi a prendere il mio file onyx uso l'onex runtime fondamentalmente per fare il load carico su l'elemento ricordandomi come è fatto l'input creo il dense tensor dello stesso formato quindi te ne darò uno e te ne darò quattro proprietà metto le mie quattro proprietà finte lo trasformo in un tensore quindi ricordiamo nella matrice che è in grado di comprendere il framework di machine learning banalmente lo do in input in output prendo il tensore lo ritrasformo e gli vado a chiedere di darmi l'indice max se lo metto in run aspetto ovviamente che non faccia assolutamente niente di strano ma nell'input gli chiedo di prendere l'indice max e l'indice max finalmente mi dirà che la risposta è 2 il mio cliente ha cambiato gli abbiamo generato un altro modello ma l'input e l'output sono gli stessi perché si aspetta sempre di ricevere gli stessi dati la stessa foto lo stesso video lo stesso testo la risposta è la stessa io cambio addirittura modello cambierò ovviamente quello che mi arriva in input del mio codice non devo cambiare assolutamente in questo caso lui finisce e mi dice guarda che risultato è 1 quindi secondo questi dati il fiore che ho catalogato è un altro e questo ci apre anche ovviamente gli scenari come vi sto anche utilizzando Android S di poterlo rilasciare direttamente dentro il dispositivo o nella parte anche web di fare o l'applicazione Node.js o un'applicazione proprio totalmente client magari non un modello enorme però potenzialmente si può dire questo tipo di classificazione questo riconoscimento di documento questo ritaglio dell'immagine lo si fa con intelligenza artificiale ma lo si fa direttamente sul browser del cliente utilizzando la GPU del cliente quindi materialmente Azure AI non solo ha sposato la cosa mi permette di fare questa roba qui l'OnX Runtime di Microsoft pian piano si è anche integrata con altri tool per esempio l'Intel OpenVINO e vi permette di utilizzare non solo l'OnX e l'OnX Runtime per fare il la parte di inferenza ma potete fare anche la parte di training quindi sappiamo che la parte di training è la parte più costosa ok ma siccome io lo voglio già in OnX sono sicuro che Microsoft mi supporta OnX se scegliamo determinati processori anche su Azure AI possiamo dire fate il training direttamente quando diciamo di fare di risparmiare da questo punto di vista dovete immaginare qualcosa come all'inizio si facevano tutti gli studi con un bel Int64 Adesso ci sono alcuni modelli che arrivano ad utilizzare 4 bit quindi da 64 a 4 immaginiamo negli ultimi che ancora non si fa il training e ancora sono in fase di studio sono da 2 o da 1 bit quindi la capacità di dire studio a 64 bit per poi avere un modello a 1 bit o studio direttamente un modello a 1 bit quindi risparmiare 64 volte il tempo potenza di calcolo e soprattutto i costi Io vi ringrazio se avete apprezzato avete commenti volete farvi crescere date un voto alla sessione se ci sono domande sono qui per voi oppure come sempre mi trovate su LinkedIn che dino